Oggi parleremo dell'atto amministrativo e della attività amministrativa. L'argomento anch'esso non è di certo a meno tecnico, ma tocca anch'esso alcuni problemi per comprendere il meccanismo, il funzionamento della organizzazione amministrativa dello Stato. Cosa vuol dire amministrare? Amministrare indica nello stesso nome di, anticamente era administrare, da cui la parola minister, ministro, si indica la concreta delle regole generali espresse nelle leggi, insomma l'attività di governo. L'amministrazione è il motore sociale di ogni collettività e quest'ultima non potrebbe esistere se non vi fosse un'organizzazione, un apparato ed una attività amministrativa. Quindi l'atto o provvedimento amministrativo è l'atto della pubblica amministrazione, come se fosse il frutto di un albero. E quindi una cattiva amministrazione produce cattivi atti amministrativi. Questo è un aspetto importante. Come deve essere valutato? Che definizione si può dare dell'atto amministrativo? Nel 1800 e anche in parte del 1900, l'atto amministrativo era considerato in modo negativo, cioè l'atto amministrativo era quell'atto che non aveva la forma della legge o della sentenza. E quindi per sottrazione tutti gli atti che non erano né legge né sentenza erano atti amministrativi, definizione imprecisa. Oggi l'atto amministrativo può essere definito, come è stato quasi scolpito in questa definizione, è l'atto o provvedimento emanato da un organo della pubblica amministrazione caratterizzato da presunzione di legittimità, dalla esecutorietà e che è finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico. Questi sono gli aspetti importanti dell'atto amministrativo. Come tutti gli atti e come tutti i contratti, l'atto amministrativo si regge su alcuni elementi essenziali, cioè quegli elementi costitutivi dell'atto, quelli necessari per la sua esistenza. Bisogna precisare che nelle leggi vigenti non c'è però l'elencazione di questi elementi essenziali. Essi sono stati individuati dalla giurisprudenza e poi dalla dottrina, prendendo come modello l'atto privato, il contratto privato. E quindi noi abbiamo come elementi essenziali dell'atto amministrativo innanzitutto la capacità del soggetto, la dichiarazione, il contenuto, la causa, la forma e si aggiunge la motivazione. Esaminiamoli singolarmente. Il soggetto che emana l'atto deve avere la capacità, la competenza ad emanarlo. L'atto che è emanato da un soggetto che non è un organo della pubblica amministrazione non è un atto amministrativo. Per comprendere meglio questo aspetto faccio un breve riferimento storico che di solito non si trova nei libri. Siamo nel 1812, Napoleone aveva iniziato la campagna disastrosa di Russia, c'erano già delle notizie negative sull'andamento della guerra e un generale francese a Parigi, un certo generale Malet, si presenta di notte alla prefettura di Parigi e dice «Ho avuto notizia che l'imperatore è morto. L'esercita è ritirata, assumo io i poteri per cercare di salvare la nazione». Il prefetto di allora, sbalordito da questa notizia, ci crede e sta quasi per consegnargli tutte le competenze e anche la possibilità di emanare degli ordini. Un altro impiegato, un altro funzionario, ha qualche sospetto da questa notizia così sconvolgente e cerca di avere altre informazioni. Alla fine si accorgono che questo generale Malet è un mistificatore, è un funzionario di fatto. Non è un funzionario che ha la capacità amministrativa per emanare questi provvedimenti o per chiedere i poteri per questi provvedimenti. Tralasciamo la storia drammatica con la fucilazione di questo e di altre persone che avevano tentato un colpo di Stato attraverso una sostituzione di persone. Questo problema quindi fa vedere come la capacità del soggetto è uno degli elementi indispensabili per poter emanare un atto amministrativo. Abbiamo però nel nostro ordinamento il funzionario di fatto, previsto dalla legge, cioè quel soggetto privato che svolge di fatto una funzione pubblica e può intervenire anche in occasione di determinati avvenimenti, una catastrofe, un'inondazione, una rottura di diga, eccetera. In questi casi la legge stessa prevede che un cittadino qualsiasi possa svolgere delle funzioni di funzionario di fatto, cercando di ovviamente perdere finalità di interesse generale. Quindi, come regola di fondo, però, l'elemento uno, il primo elemento basilare per l'emanazione di un atto amministrativo è la capacità del soggetto. Secondo punto è la dichiarazione. L'atto con cui la pubblica amministrazione dichiara esterna, rende esplicita la sua volontà. Domanda, ma anche il silenzio della pubblica amministrazione può avere un significato? Si risponde, di per sé il silenzio non costituisce una dichiarazione. Solo in ipotesi già previste dalla legge, la legge stessa attribuisce al silenzio della pubblica amministrazione il significato di una dichiarazione o positiva o negativa. Questa dichiarazione, quindi, è un elemento molto importante e naturalmente, sì, l'abbiamo già visto, può essere emanata da un organo monocratico, individuale, da un organo collegiale e in questo caso, perché la dichiarazione sia valida, è indispensabile un numero legale, il cosiddetto quorum, che vuol dire il numero dei quali, che è quorum strutturale, che indica il numero dei componenti che devono essere presenti perché l'assemblea sia validamente costituita, è un quorum funzionale che indica il numero necessario dei componenti indispensabile per la validità della deliberazione. Abbiamo poi i problemi dell'atto collettivo, in cui tutte le volontà si fondono in una sola volontà, dell'atto complesso o dell'accordo, in cui le volontà permangono distinte, ma tendono però ad una finalità unica. E abbiamo anche l'intesa, dove vi è un accordo di massima, un benestare, senza assumersi la responsabilità dell'atto che segue all'intesa. Altro elemento importante è il contenuto. L'oggetto della dichiarazione deve essere preciso e determinato. Se non vi fossero questi due aggettivi così importanti, anch'esso manca, l'atto amministrativo crolla, è come se fosse un edificio a cui viene a mancare qualche colonna che lo regge, cade. Altro aspetto ancora, che ricalca in parte qualche cosa di simile sul contratto del diritto privato, la causa. La causa indica lo scopo tipico, costante, rivolto alla realizzazione di un pubblico interesse che la legge stabilisce per quel determinato atto. La causa indica la legittimità dell'atto, perché l'atto amministrativo deve perseguire i fini determinati dalla legge. Quindi, la causa non deve essere confusa con i motivi che possono essere i più vari. La causa dell'atto indica il meccanismo dell'atto stesso. Per esempio, la causa della espropriazione è rappresentata dal trasferimento o atto della proprietà del privato alla pubblica amministrazione. La causa del contratto di compravendita indica lo scambio di cosa contro prezzo, eccetera. I motivi possono essere i più vari, però quello che importa è che vi sia questo meccanismo interno della causa stessa. Abbiamo poi un altro elemento importante, la forma. L'elemento che è sempre legato alla dichiarazione che deve esprimersi attraverso una veste esteriore giuridica. Come regola generale l'atto amministrativo deve avere forma scritta. Ma, questo è previsto anche in varie leggi, ma vi possono essere varie ipotesi, per esempio ordine di polizia, dove questo ordine è valido anche se vi è la forma orale. Aggiungo anche qualche notazione un po' curiosa, che vi possono essere degli atti amministrativi che sono espressi in forma simbolica, mediante dei segnali. Pensiamo al vigile urbano che ad un crocicchio fa determinati segnali per guidare in un modo o nell'altro per regolare la circolazione degli autoveicoli. Lo stesso vale anche per le luci di apparecchi luminosi automatici, il rosso, il giallo e il verde per attraversare la strada. Qualcuno ha affermato che in questo caso queste forme non costituiscono l'atto, sono il presupposto perché vi possa essere poi un altro. comunque il punto è che vi possono essere quindi degli atti che vuoi come atto stesso, vuoi come presupposto, però si possono esprimere anche in forma simbolica. La forma scritta, che è quella principale di quasi tutti gli atti amministrativi, si traduce anche nella sottoscrizione, cioè nella firma dell'atto stesso. Quando è valida la firma? Molte volte la firma è scritta in modo molto veloce, può essere quasi uno scarabocchio. La sottoscrizione deve in ogni caso consentire indipendentemente dalla leggibilità della firma la possibilità di individuare la provenienza dell'autorità che ha emanato questo atto. Un altro aspetto più importante che si è verificato ed è diventato attuale soltanto in questi ultimi anni è la motivazione dell'atto stesso. Un tempo la motivazione non c'era. La pubblica amministrazione dominava sui sudditi e tutto ciò che faceva parte della pubblica amministrazione era coperto rigorosamente dal segreto. Questo è cambiato anche per gli abusi a cui si poteva andare incontro e quindi si è stabilito che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e la motivazione non consiste in una formula stereotipata o generica ad esempio per motivi di servizio deve indicare tre cose i presupposti di fatto le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e poi il risultato della istruttoria cioè della valutazione per cui questo atto è stato istruito questa pratica è stata analizzata con attenzione quindi abbiamo presupposti di fatto poi ragioni giuridiche quindi con l'indicazione anche delle leggi che disciplinano questa materia e poi come se fossero una tenaglia questa forma della istruttoria i due aspetti della presupposti di fatto le ragioni giuridiche devono essere tenuti assieme come da una tenaglia dalle risultanze cioè dal risultato della istruttoria naturalmente su questo problema della motivazione sono sorti dei problemi innanzitutto la motivazione non deve essere data per gli atti normativi quelli a contenuto generale quindi un regolamento non è necessario che sia motivato peggio ancora un atto di contenuto generale ma poi anche gli atti che sono di mera certificazione non ricevono non vi è la necessità della motivazione ad esempio un certificato di nascita deve attestare che la persona tal dei tali è nata in quel giorno in quel posto eccetera non c'è bisogno che vi sia una motivazione di un atto di questo genere questo problema della motivazione però non è stato sempre risolto perché molte volte la pubblica amministrazione formula un atto amministrativo in modo estremamente sintetico ad esempio mediante dei numeri pensiamo alle valutazioni scolastiche dove un candidato viene promosso o non promosso in base alla valutazione numerica che viene dato al risultato del suo esame quindi con il 6 si passa con il 5 non si passa però sorge il problema ma cosa vuol dire questo è un numero sì si è la consuetudine di attribuire al 6 il significato di una sufficienza tenendo conto della numerazione da 1 a 10 però non è che con questo si dà la motivazione ricordo abbiamo detto prima la motivazione è l'indicazione delle ragioni di fatto delle ragioni giuridiche e le risultanze dell'istruttoria dove ci sono questi elementi quando su un determinato atto amministrativo si dice soltanto un numero questo problema che vale ancora per vari esami anche nei pubblici concorsi negli esami universitari eccetera ha sollevato parecchi e non sempre risolti problemi la giurisprudenza ha cercato di trovare un punto di incontro questo perché perché molte volte per esempio vi sono determinati concorsi pubblici con la partecipazione di centinaia di persone nella valutazione dei testi scritti se si dovesse ogni volta dare una motivazione scritta molto ben articolata seguendo le regole che abbiamo indicato prima delle ragioni di fatto delle ragioni giuridiche delle risultanze dell'istruttoria probabilmente questi esami non si riescono mai a concludere sarebbe troppo complicato la giurisprudenza ha cercato di stabilire questo criterio che la numerazione o meglio la valutazione numerica è valida purché vi sia però il riferimento sulla base di un parametro scritto precedentemente quindi che il 6 sulla prova scritta corrisponda alla sufficienza e quindi questa indicazione numerica deve corrispondere a un parametro in cui il candidato ha sviluppato l'argomento ha individuato la soluzione del problema ha colto gli aspetti essenziali eccetera molti studiosi hanno ritenuto che questa formula di compromesso non sia ancora sufficiente perché l'articolo 3 della legge 241 del 1990 stabilisce delle colonne diverse dei punti di riferimento diversi questo è un aspetto importante aggiungo ancora che molte volte questo è importante per la motivazione vi sono dei casi in cui la legge stabilisce anche qualche cosa in più oltre ai criteri che abbiamo visto prima dell'articolo 3 della legge 241 del 1990 ed è stabilito per esempio che in determinate ipotesi specie in materia di ambiente la motivazione deve essere congrua oppure adeguata e quindi più o meno estesa e approfondita in relazione alle singole ipotesi questo però fa vedere un aspetto importante che l'attività l'atto amministrativo deve essere un atto trasparente non può nascondersi dietro il segreto d'ufficio o peggio ancora dietro delle ragioni di discrezionalità di cui soltanto la pubblica amministrazione può dare la sua valutazione l'atto amministrativo e l'attività amministrativa deve essere certamente legittima ma anche attraverso l'esame degli elementi essenziali vediamo che deve essere trasparente e come è stato detto con espressione un po' giornalistica una casa di vetro un po' giornalistica un po' giornalistica un po' un po'